La lunga e intensa estate di Roseto Capospulico prosegue con tante iniziative, volte a proporre ai numerosi turisti un'offerta variegata e l'opportunità di conoscere tutto il territorio e le tante eccellenze della cittadina ionica. Ultimo in ordine di tempo, l'evento organizzato nel cuore del centro storico, i percorsi gastronomici e il corteo storico di Federico II. Stasera abbiamo la rievocazione storica che riecheggia un po' Federico II e comunque il borgo medievale che vogliamo valorizzare, è una manifestazione che facciamo da anni insieme a Orizzonti Rosetani che è un'associazione del nostro territorio. L'intento è quello ovviamente di valorizzare le nostre radici, il fatto che siamo un paese di Federico II e sarebbe bene che ci appropriassimo sempre di più di questa dimensione medievale. Lo faremo anche in marina con Serenata e Federico ma certamente il borgo e il centro storico si prestano molto di più a manifestazioni di questa natura. E mentre il corteo si snodava tra le strade e i vicoli del centro storico, in una delle piazze è stato dato spazio alla gastronomia tipica, una bella occasione per far conoscere ai tanti turisti un altro aspetto di Roseto, un altro patrimonio importante da promuovere e salvaguardare. L'obiettivo è quello di far conoscere oltre il mare di Roseto evidentemente le nostre specificità. Le specificità sono la nostra storia, la nostra cultura che è anche cultura gastronomica. L'obiettivo è quello di far conoscere ai tanti turisti un altro aspetto di Roseto.